La settimana terribile della politica. Nei partiti siamo alla resa dei conti, si definiscono le liste, si spartiscono i collegi, in un via vai di ex e prossimi parlamentari, tra folate di entusiasmo di chi punta agli scranni romani e i mal di pancia di chi resta fuori. A Vicenza il Movimento 5 Stelle ha già fatto le parlamentari online, ma Luigi Di Maio ha anticipato i giochi con delle scremature e la capogruppo in consiglio comunale, Liliana Zaltron, si è ritrovata esclusa, così come altri, tra le polemiche. Sono entrati alla Camera Sara Cunial, Gedore Mandreatta di Marostica, Elisa Pilati di Montecchio Maggiore, Giacomo Bordolan di Vicenza. Al Senato c'è solo una vicentina, Barbara Guidolin di Rosà. Il centrodestra invece è un cantiere aperto, tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è in corso una serrata trattativa per l'assegnazione dei posti sicuri. Nel patto di coalizione sarebbero previsti 16 collegi uninominali veneti per il Carroccio, 9 per Forza Italia e un paio per Fratelli d'Italia. Cominciamo dalla Lega, dove oggi sono un centinaio i profili disponibili a candidarsi in tutto il Veneto tra Camera e Senato, alla fine però in lista andranno meno della metà, quindi sai mal di pancia. Intanto si candidano sicuramente il segretario provinciale di Vicenza, Eric Pretto, ma anche la senatrice uscente, Erika Stefani, oltre al sindaco di Creazzo, Stefano Giacomin. In Forza Italia il nome sicuro è quello di Pier Antonio Zanettin, membro del CSM, ma anche il fondatore dell'esercito di Silvio, Simone Furlan. In discesa invece le quotazioni di Elena Donazzan, che non la prenderà bene. Per Fratelli d'Italia sicuro Sergio Berlato. Il centrosinistra invece, rispetto al 2013, dovrà fare una cura dimagrante. I seggi vicentini sicuri sono al massimo tre e l'assemblea provinciale del PD ha chiamato i circoli locali a individuare per ogni collegio le candidature da proporre, ma sarà il partito democratico nazionale a decidere. In pole position c'è Daniela Sbrollini. Insomma, da destra a sinistra nulla è ancora certo. I partiti fanno il loro gioco, i candidati puntano su un posto, ma la roulette deve ancora girare.